Uno degli elementi chiave che deve avere il gemello digitale per essere effettivamente qualcosa che produce valore sul territorio è quello di aggiungere, dare nuovi sensi a quel territorio. Primo passaggio, l'economia della condivisione, l'economia che parte dal presupposto che il valore è nell'accesso all'esperienza, non nel possesso di quell'esperienza. Quello che stiamo facendo è cercare di costruire un gemello digitale degli spazi delle grandi corporate con un obiettivo di trasformare 100.000 postazioni di lavoro da luoghi dedicati a queste corporate a spazi comuni dentro ecosistemi definiti. Abbiamo già un'esperienza di questo genere, si chiama Smart Alliance, 30 grandi multinazionali italiane si sono unite in un'operazione di questo genere, 300 persone in 150 postazioni in 7 città diverse, stanno avendo questa esperienza, incontrandosi, facendo progetti che sono non più progetti aziendali ma progetti interaziendali, stanno cominciando a ipotizzare questa nuova forma di collaborazione. Ecco il gemello digitale consente di fare questo, consente di fare questo perché consente di avere una mappa degli spazi, non è solo una mappa degli spazi dell'azienda, ma la mappa degli spazi di più aziende.